Per la prima volta qui a Palazzo del Pegaso in consiglio regionale si riunisce la commissione speciale istituita il 7 aprile scorso per le vaccinazioni dopo le tante polemiche sui ritardi per gli over 80. Quella che doveva essere una semplice formalità diventa invece una battaglia politica durissima. E così l'insediamento è rinviato in un clima di forte tensione tutti i gruppi naturalmente dicono da loro anche Fratelli d'Italia che ha deciso di non partecipare a quella commissione e neppure l'aveva votata. Resta centrale il tema dei vaccini gli ultimi numeri danno l'idea di una progressione ma restano molte criticità che si palesano anche a metà settimana con un nuovo problema sul portale. Per ora il lavoro di monitoraggio continua a svolgerlo la commissione sanità. E poi c'è l'inchiesta sullo smaltimento degli scarti conciari. Anche per quello ci sarà una nuova commissione. Sarà però una commissione di inchiesta votata dal consiglio regionale nell'ultima seduta ad approfondire la questione. Mazzeo intanto conferma in tv cambieremo il regolamento per evitare i rischi di emendamenti sprint. Nell'ultima settimana di aprile si vota anche un documento sull'attività del difensore civico. Il giudizio è positivo. Ascolteremo il parere dei consiglieri dei diversi gruppi. Via libera anche la nuova commissione per le pari opportunità. Sono i giorni del dolore questi per le ultime tragedie, le nuove, le ennesime tragedie sul lavoro. Quella di Prato ha scosso e commosso tutta Italia. Ha perso la vita una giovane donna, marre di un bambino piccolo. È scattata la mobilitazione per aiutarla e per denunciare i rischi del lavoro non sicuro. Da un lato la maggioranza non riesce ad eleggere il presidente di questa commissione e vedremo perché. Dall'altro le opposizioni vogliono che questa commissione non sia la mera fotocopia di quella che già esiste per la sanità e le politiche sociali. Ecco i nomi dei dieci membri designati per questa commissione. Cinque sono consiglieri del Partito Democratico, il sesto di maggioranza è Scaramelli di Italia Viva. Poi ci sono quattro consiglieri delle opposizioni. C'è la consigliera del Movimento 5 Stelle, poi tre consiglieri di centrodestra, due sono della Lega e uno di Forza Italia. Non c'è nessuno di Fratelli d'Italia. Il capogruppo, impegnato in un'iniziativa a Piombino, conferma e spiega al nostro microfono le ragioni di questa scelta. Il piano vaccinale della Regione Toscana è un piano vaccinale disastroso. Hanno detto che era soltanto un problema iniziale quando non riuscivamo a vaccinare gli over 80. È notizia di ieri che anche sugli over 60 la Toscana è fanalino di coda. Evidentemente non funziona niente di quel piano. La necessità era andare a capire cosa non aveva funzionato di quel piano, a zerare gli errori e ripartire tutti insieme con un piano vaccinale 2.0, con un nuovo piano vaccinale. Il Consiglio regionale ha preferito, il Partito Democratico, li capiamo i motivi, ha preferito fare una bella commissione che insabbi tutto quello che non ha funzionato finora e che da oggi supporti Bezzini e Gianni nella nuova avventura che si sta dimostrando più fallimentare ancora di quella precedente. Dispiace vedere che alcune forze di centrodestra si siano prestate a questo giochino della maggioranza che serve soltanto a rafforzare Bezzini e a non farci capire e indagare su quello che non ha funzionato. Il Partito Democratico presenta sostegni per la Presidenza. Per la Vice indica Landi, portavoce dell'opposizione per la Segreteria, Vannucci ancora del PD. L'opposizione non ci sta e presenta una propria lista alternativa, Landi Presidente, Scaramelli Vice e Noferi del Movimento 5 Stelle nel ruolo di segretaria. Io dico solo che noi eravamo pronti il giorno dopo per partire con questa commissione speciale perché riteniamo che i disagi debbano essere risolti e che ciascuno di noi possa portare un contributo. Lo abbiamo detto, ci abbiamo messo la faccia, ci vogliamo mettere anche il nostro lavoro perché cose come quella successa stamattina non devono più succedere, portali che non funzionano. Vediamo che purtroppo la Toscana è l'ultima per la vaccinazione dei sessantenni, ecco ci sono tante cose ancora da risolvere. Noi vogliamo dare un contributo ma evidentemente le lotte interne alla maggioranza fanno in modo che si ritardi la creazione della commissione ma evidentemente anche l'istituzione della stessa. A noi ci dispiace però io credo che la politica debba guardare anzitutto al bene dei cittadini. Purtroppo in questo momento oggi abbiamo visto un brutto spettacolo che non ci fa portare il nostro contributo, il contributo che tante persone per bene ci chiedono tutti i giorni. Le fa ecco lo stesso portavoce dell'opposizione. Noi da un mese a questa parte abbiamo aspettato semplicemente che fosse convocata l'inizio, quindi l'apertura della commissione speciale. Poi è chiaro che se il PD propone il copia e incolla di quello che è in terza commissione che è la commissione sanità è chiaro che alle posizioni non può stare bene. Quindi noi abbiamo presentato una nostra lista, la maggioranza ha presentato una sua lista e evidentemente la maggioranza non ha espresso i numeri necessari per votare quella lista perché un membro della maggioranza non ha votato quella lista, quindi è un problema interno alla maggioranza. Scaramelli non accetta e detta le sue condizioni, poi si sfila dai lavori, la sua assenza impedirà alla fine il raggiungimento del quorum necessario. Io pongo delle condizioni per lavorare in questa condizione, una convocazione permanente della stessa, senza interruzione di continuità, la presenza costante ad ogni riunione del presidente Gianni perché ogni cosa venga decisa da ora in poi sui vaccini il presidente possa condividerlo con la commissione. Queste sono le condizioni che noi poniamo e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere, condividere quelli che saranno gli hub da definire, condividere le possibilità e le strategie per coinvolgere le aziende, le associazioni di volontariato, l'eliminazione totale e immediata dei click day per evitare che le persone debbano fare le ore di attesa di fronte a un computer per promotare un vaccino, chiediamo l'impiego dei medici di medicina generale per poter vaccinare i fragili e soprattutto chiediamo di fare una comunicazione che diventi informazione. Noi vogliamo informare insieme i cittadini toscani, ci aspettiamo che il lavoro di questa commissione ogni giorno che si va a riunire alla sera dia comunicazioni sia questa la comunicazione istituzionale e formale della Toscana dà ai cittadini in merito ai vaccini. Alla fine per ora salta tutto, entro 30 giorni su iniziativa dell'ufficio di presidenza la commissione tornerà comunque a riunirsi e dovrà sciogliere il dubbio sulla presidenza. I consiglieri di Fratelli d'Italia presenti comunque a Palazzo rincarano la dose delle loro critiche. Fino ad ora la commissione speciale non solo non ha prodotto nulla ma ha prodotto ulteriori elementi di frizione all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso. Io penso che potesse eventualmente avere un senso se c'era comunque una condivisione totale su una commissione speciale sui vaccini che dovesse in qualche modo sostenere e coadiuvare l'assessore. In realtà produce ulteriori frizioni all'interno della maggioranza e all'interno del Consiglio stesso. Lo scambio di accuse tra maggioranza e opposizioni si protrae a lungo. Interviene anche la consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle, sventisce ogni possibilità di avvicinamento al PD in Toscana e manifesta tutte le sue perplessità. Uno spettacolo indegno, indegno proprio della peggiore politica che si sente raccontare o si vede nei film. Oggi grazie all'ostruzionismo, perché non si può chiamare in un altro modo di Forza Italia e di Italia Viva, si è fatto di tutto per impedire la nascita di questa commissione. Quando fuori ci sono problemi grossissimi, i cittadini non riescono a prenotarsi sul portale predisposto dalla regione toscana, addirittura ci sono delle criticità per cui si possono prenotare anche in due liste diverse. Quindi un sacco di problemi che potrebbero essere affrontati in questa commissione, voluta, ricordo, dal Movimento 5 Stelle e anche dalla Lega, votata dal Partito Democratico. Però oggi si è cercato di tutto per impedire la nascita di questa commissione. Stella, capogruppo di Forza Italia, evoca addirittura la possibilità di elezioni anticipate. Certo è che qualora si dovesse dimostrare in Consiglio regionale che non esiste una maggioranza ci sono solo due opzioni. O facciamo una verifica immediatamente, ed è quella che noi chiederemo in Consiglio regionale martedì e mercoledì prossimo, oppure c'è la via maestra, quella delle elezioni. Noi non abbiamo paura di andare alle elezioni, sapremo presentarci agli elettori con un centrodestra compatto, con una proposta credibile e credo anche che il centrosinistra in questi sei mesi abbia dimostrato la sua incapacità a gestire una situazione complessa come questa. Da un lato una fase vaccinale che fa acqua da tutte le parti e dall'altro nessun sostegno per sostenere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi. Infine, la parola al capogruppo del Partito Democratico che spiega intanto le ragioni della sua proposta. Abbiamo fatto una proposta che comprendeva il presidente Enrico Sostegni facendolo coincidere con quella della Commissione Sanità perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini, da fare bene e il prima possibile. Abbiamo fatto una proposta di vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione, che aveva accettato questa vicepresidenza, dopodiché l'opposizione non l'ha più votata. Quindi noi non comprendiamo come questo possa accadere se non per una schizofrenia legata probabilmente a posizionamenti e a divisioni della minoranza perché una parte non aveva già partecipato alla Commissione Speciale, cioè una parte ha dato l'ok per quanto riguarda una proposta che prevedeva la vicepresidenza al loro appannaggio e poi non la si vota. Poi stimolato dalle nostre domande risponde anche delle divisioni nella maggioranza e del rapporto con Italia Viva che a questo punto appare piuttosto problematico in Toscana. Abbiamo da affrontare molti problemi e molti temi che sono strategici per quanto riguarda il futuro, che sono quelli appunto della campagna di vaccinazione, che sono quelli del piano regionale di sviluppo, che sono quelli del recovery plan. E quindi ovviamente parleremo di tutto ciò e ovviamente vorremmo anche capire se questa assenza è legata alla prima fase del non farsi strumentalizzare dall'opposizione o seppure è stata una scelta consapevole, il che allora aprirebbe comunque una riflessione doverosa che va fatta. Intanto, come programmato e come accade ogni settimana, giovedì 6 maggio è tornata a riunirsi la Commissione Sanità e con l'assessore Bezzini ha fatto il punto sulla campagna dei vaccini. La prima richiesta alla Giunta, condivisa dai membri della Commissione, è quella di abolire ogni click day, quella corsa alla prenotazione online che rende complicata e sempre faticosa la possibilità di vaccinarsi. Ancora una volta emerge poi la necessità di chiarire bene come si procederà nella vaccinazione e nelle prenotazioni future, valutando di aprire a classi d'età più ristrette e resta naturalmente prioritaria la vaccinazione degli estremamente vulnerabili, dei loro familiari e dei caregiver. Dal Presidente Sostenì è arrivato anche l'invito esplicito al Presidente della Giunta Gianni per un'audizione in Commissione, la Commissione Sanità naturalmente. E questo suona un po' come la risposta alle polemiche del giorno prima. Dice Sostenì, al di là di ogni commissione speciale, uno strumento del Consiglio regionale per monitorare e per contribuire costruttivamente sul fronte ai vaccini c'è ed è la Commissione Sanità e Politiche Sociali. La difesa civica, si sa, è molto importante per tutti noi cittadini. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale a fine aprile è stato valutato e positivamente il lavoro svolto dal difensore civico della Regione Toscana, Sandro Vannini. Intanto il difensore civico apre il suo nuovo scortello territoriale, è il decimo a Livorno. Sarà in pieno centro negli uffici della provincia ed è stato presentato il 29 aprile scorso. Sandro Vannini, che ogni due settimane e lunedì alle 18.45 ha una rubrica su Telegram Ducato in uno spazio che gli abbiamo offerto per dare un servizio in più ai cittadini, spiega cosa è stato fatto finora e come si articolerà il lavoro del nuovo ufficio decentrato e degli altri già presenti. È doveroso fornire questa informazione per dire ai cittadini che hanno problema anziché venire fisicamente a Firenze che non possono per la sicurezza dell'emergenza sanitaria e anche l'attenzione che ne conseguono nell'utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto le persone anziane nonostante quelle che sono state vaccinate. Ecco, quindi possono andare in un luogo più vicino, la provincia di Livorno è prossima, trovare un impiegato che li assiste, gli scannerizza le domande, li prende cura del problema, lì magari inoltre lui a noi ufficio in Firenze, presso il Consiglio regionale, gli fa un servizio che sembra banale ma è importante soprattutto per gli anziani che non hanno un ufficio in casa, non hanno i portatili, non hanno il computer, non hanno uno scanner, non hanno nemmeno un device che gli permetta di scannerizzare i documenti e talvolta gli anziani ci fanno le foto delle bollette e noi non le leggiamo nemmeno. Intanto in aula i consiglieri esprimono a maggioranza l'apprezzamento per il lavoro svolto. Il difensore civico regionale toscano si distingue da sempre per intervenire in materia della responsabilità professionale, soprattutto di carattere sanitario, per l'intensa attività svolta in sede di commissioni conciliative miste presso le aziende sanitarie e anche per essere stato determinante nella risoluzione di parecchie controverse collegate al servizio idrico e in prospettiva ci si avvia ad una fase in cui il difensore civico possa arrivare anche attraverso un accordo con AIT a gestire le controversie collegate alle altre utenze come luce e gas. Per queste ragioni auspicando anche che si possa svolgere tutta quella attività indispensabile per arrivare alla costituzione della figura del difensore civico nazionale, il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la risoluzione contenente la relazione del 2020 del difensore civico regionale. Il difensore civico ha fatto un grandissimo lavoro, ha svolto un lavoro straordinario soprattutto nelle attività di conciliazione, di mediazione. Lo ha fatto sia in ambito sanitario quando nell'azienda sanitaria si è posto come interlocuzione dei soggetti deboli, fruitori del sistema sanitario per trovare livelli di conciliazione lo ha fatto soprattutto al cospetto delle autorità idriche e lo potrà fare, come ho chiesto io, nei prossimi anni anche come interfaccia del settore energetico e del settore delle multiutility. Quindi serve qualcuno che aiuti i più deboli a difendersi da questi macro soggetti economici che ormai non sono più radicati o presenti nella porta accanto di un territorio ma che magari è molto difficile anche con i quali parlarci. Sulla stessa linea anche il principale gruppo di opposizione. Esprimo soddisfazione per l'attività che posso dire per quanto riguarda la mia provincia ho seguito in parte anche da vicino perché è stato aperto uno sportello decentrato in Valdichiana, Retina, Castiglione e Ferentino. Siamo arrivati a dieci sportelli dove i cittadini oggi possono portare le loro richieste. Ho sollecitato il difensore civico per i problemi della telefonia nella montagna cortonese, il Digital Divide. Ho segnalato i disservizi per quanto riguarda la mancanza di corrente elettrica in un'area della Valdichiana, Manciano, comune di Castiglione e Ferentino. Posso dire che sta diventando sempre più importante la funzione del difensore civico anche in tema di sanità. C'è però una posizione diversa nel centro-destra che è quella del capogruppo di Forza Italia che evidenzia spese a suo giudizio eccessive e poi aggiunge I numeri danno torto a questo difensore civico. Le pratiche sono meno, sono 1.536, quindi meno di quelle che venivano fatte nel 2017, nel 2016 o nel 2015. A fronte di tutto questo abbiamo queste spese. Non certo chiediamo al difensore civico di fare buffet, di fare light lunch, di spendere in comunicazione. Noi vogliamo un difensore civico che risponda ai cittadini, che lo faccia in tempi certi e non che spenda i soldi dei contribuenti in comunicazione. Ritiene importante il ruolo del difensore civico anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle che poi però attacca su un'altra questione. La composizione della nuova Commissione per le Pari Opportunità sono 20 membri ed ecco perché Galletti critica. La Commissione Pari Opportunità dalla sua origine rappresenta tutte le forze politiche all'interno dell'arco del Consiglio regionale e quest'anno per la prima volta non avrà una delle componenti, quella del Movimento 5 Stelle perché le opposizioni hanno deciso in tre gruppi che sono di accaparrarsi in una sorta di bulimia delle poltrone tutte e sei le posizioni per le nomine da loro scelte e questo è significativo e oggettivamente singolare. Hanno lavorato naturalmente tutte le commissioni in questi ultimi giorni anche insieme come nel caso della riunione congiunta della Commissione Europa e di quella per le aree interne. Il tema delle risorse europee da convogliare nelle aree più marginali e periferiche è una delle sfide a più alta complessità nel programma di Next Generation EU. Per adesso ci sono solo le linee generali del recovery plan, i progetti andranno poi ben definiti. La Commissione Territorio e Ambiente è tornata ad occuparsi del possibile inquinamento da Cheu, lo scarto della lavorazione conciaria, l'inchiesta shock di Santa Croce, al di là della sua valenza politica, impone anche nuovi e rigidi controlli sui territori che dovranno estendersi anche ad aree contigue come quella del lago di Massaciuccoli, via libera dalla stessa commissione al bilancio preventivo del palco della Maremma. La Commissione Cultura ha infine dato l'ok a nuove celebrazioni per i 700 anni della nascita di Dante Alighieri e quella per la sanità e le politiche sociali ha dedicato un approfondimento al tema delle risorse per lo sport che sono aumentate in Toscana, secondo la Giunta, da 3 milioni a 9 milioni e mezzo. Obiettivo? Riqualificare il patrimonio degli impianti. Noi torniamo con Regionando venerdì prossimo, 14 maggio, e faremo il resoponto di una nuova seduta del Consiglio regionale che certo ancora sarà incentrata sul tema del contrasto alla pandemia e quindi si parlerà anche di vaccini, riaperture, sostegno economico.